Per i Viera Sport siamo con Pietro Daddi, un'altra doppietta per te, 25 gol in campionato. Sei soddisfatto? Una bella vittoria soprattutto per l'Imperia. Sì, al di là dei gol sono soddisfatto di questi tre punti importantissimi per noi. Sono questi tre punti che ci fanno allungare sulla diretta concorrente che è la Rivarolese in questo momento e di questo noi siamo veramente contenti. Ecco, una dedica speciale per i tuoi due gol. Guarda, in questi due momenti, questi due gol e questa vittoria la voglio dedicare a questo ragazzo, questa disgrazia, purtroppo, il ragazzo che si chiama Molinari dell'Albenga. Ci stringiamo intorno alla famiglia, io e i miei compagni e appunto la società Imperia. Un abbraccio grande perché queste sono cose che vanno al di là del calcio e mi farebbe molto piacere dedicarle appunto a lui e alla sua famiglia. Ecco, un'ultima domanda sui tuoi gol. Siamo arrivati a 25 e ti aspettavi di farne così tanti. Ovvio. Grazie. 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 Grazie.